l'orfano la signorina source aveva adottato quel bambino in circostanze particolarmente tristi aveva allora trenta saiali e la sua deformità da piccola dalle ginocchia della governanta era caduta nel caminetto e aveva un volto spaventoso per l'ustione riportata in quella circostanza l'aveva persuasa a evitare il matrimonio perché non voleva che la sposassero per i suoi soldi una sua vicina rimasta vedova durante la gravidanza morì di parto lasciando solamente estrema miseria la signorina source prese il neonato lo dette a balia lo allevò lo mandò in collegio e lo riprese con sé all'età di 14 anni allo scopo di avere nella sua casa vuota qualcuno che le volesse bene che avesse cura di lei raddolcendone la vecchiaia abitava in una piccola proprietà di campagna a una quindicina di chilometri da renna e non aveva persone di servizio da quando era arrivato l'orfanello le spese erano più che raddoppiate e i suoi 3000 franchi di rendita non potevano bastare a mantenere una persona in più lei sbrigava le faccende da sola e cuciva mentre il ragazzo andava a fare la spesa e curava il giardino era tranquillo timido di poche parole e di buoni sentimenti e lei sentiva una gioia profonda una gioia nuova quando lui la baciava senza parere sorpreso sgomento a causa della bruttezza di lei la chiamava zia e la trattava come una madre la sera si sedevano accanto al fuoco e lei preparava buone pietanze scaldava il vino condiva bruschette deliziosi spuntini prima di coricarsi lo prendeva spesso sulle ginocchia e lo carezzava sussurrandogli all'orecchio paroline appassionate lo chiamava fiorellino cherubino angelo mio adorato gioia divina lui la lasciava fare era gentile e nascondeva il capo sulla spalla di lei nonostante fosse prossimo ai 15 anni era rimasto gracile il minuto di aspetto quasi malatico ogni tanto la signorina sur se lo portava in città a fare visita a due sue parenti due lontane cugine sposate che abitavano in periferia tutta la sua famiglia le due donne le servavano rancore per l'adozione a causa dell'eredità ma la ricevevano sempre con premura sperando ancora in qualche legato almeno un terzo se l'eredità di lei doveva essere spartita era felice proprio felice il suo ragazzo lo occupava totalmente gli comperò dei libri per aguzzargli l'insegno e lui prese passione per la lettura la sera non le andava più sulle ginocchia come nei primi tempi per coccolarla ma si sedeva con alacrità su una seggiolina accanto al caminetto e apriva un libro la lampada posata sull'orlo della mensola proprio sul suo capo illuminava i capelli riccioluti e un pezzo della fronte non faceva nessun movimento non alzava gli occhi immobile leggeva profondamente immerso nella trama del libro lei che era seduta di fronte lo contemplava con occhi ardenti e penetranti stupita della sua concentrazione gelosa anzi stravolta con le lacrime agli angoli degli occhi ogni tanto gli diceva non ti stancare tesoro nella speranza che alzasse la testa e venisse a darle un bacio ma lui non rispondeva neppure non aveva udito non aveva capito niente contava per lui tranne quel che leggeva in quelle pagine in due anni divorò un numero incalcolabile di libri e suo carattere subì un mutamento chiese denaro perché volte alla signorina Surs e lei glielo diede e lei alla fine rifiutò perché era ordinata ed energica e quando correva sapeva ragionare a furia di preghiere una sera ottenne per una volta ancora una forte somma ma quando tornò a supplicare qualche giorno dopo lei si mostrò inflessibile e non cedette più sembrò che si fosse rassegnato era tornato tranquillo come un tempo gli piaceva ancora rimanere seduto per ore immobile con gli occhi bassi perduto in fantastiche rie con la signorina Surs quasi non parlava più rispondendo appena a quel che diceva lei con frasi brevi e precise era gentile e premuroso ma non la baciava più alla sera quando rimanevano soli ai due lati del caminetto immobili e silenziosi c'era qualche volta in cui lui le incuteva una vaga paura avrebbe voluto scuoterlo dire qualche cosa una cosa qualsiasi pur di uscire da quel silenzio spaventevole come le tenebre d'una foresta ma pareva che non la udisse nemmeno e lei si agitava in un muto terrore di donna debole quando le accadeva di parlargli per cinque o sei volte di seguito ripetendo la stessa domanda che non otteneva risposta che aveva che stava accadendo dietro quella fronte china dopo essere rimasta sola due o tre ore di fronte a lui a quel modo sentiva che stava per impazzire e veniva voglia di fuggire di vagare per la campagna per evitare quel continuo silenzioso combattimento e nello stesso tempo presentiva un vago pericolo che non riusciva a precisare piangeva spesso quando era sola che cosa poteva avere bastava che lei manifestasse un desiderio e subito lui ubbidiva senza far storie se le occorreva qualche cosa in città lui ci andava immediatamente non aveva di sicuro motivo di lagnarsi di lui eppure trascorse un altro anno e le sembrò che nella misteriosa mente del ragazzo fosse accaduto un nuovo mutamento se ne accorse e lo sentì lo indovinò come e chi lo sa era certa di non sbagliare ma non avrebbe saputo dire in quale modo fossero mutati gli ignoti pensieri dello strano ragazzo e sembrò che fosse stato fino ad allora come un uomo esitante che ha preso una decisione improvvisa questo pensiero le venne una sera dopo aver incontrato lo sguardo di lui uno sguardo misterioso insistente che non gli conosceva da allora l'orfano cominciò a osservarla di continuo al punto che lei avrebbe voluto nascondersi per evitare quell'occhio freddo fisso su di lei la fissava per serate intere distogliendo lo sguardo quando lei esausta gli diceva non mi guardare così ragazzo allora chinava la testa ma appena voltava la schiena si sentiva nuovamente addosso l'occhio di lui la seguiva con quello sguardo ostinato in qualunque posto andasse certe volte quando passeggiava nel giardinetto lo vedeva improvvisamente agguattato dietro un cespuglio in attesa oppure quando si sedeva davanti all'uscio di casa per rammentare le calze e lui zappettava vicino alle pianticelle d'insalata la spiava pur continuando a lavorare in una maniera insistente e sorgnona era inutile chiedergli che hai piccolo mio da tre anni sei cambiato completamente dimmi che cos'hai non ti riconosco più a che cosa pensi ti prego lui rispondeva sempre con calma annoiato non ho niente zia e quando lei insisteva supplicandolo ti prego rispondimi quando ti parlo bambino mio se sapessi il dispiacere che mi dai mi daresti subito una risposta e non mi guarderesti in questo modo ti è successo qualcosa dimmelo cercherò di consolarti lui allora andava via stufo di tanta insistenza e mormorava ti assicuro che non ho niente non era cresciuto molto sembrava sempre un ragazzino anche se i lineamenti del volto erano quelli di un uomo erano duri eppure quasi non finiti dava l'impressione di un essere incompleto ma riuscito appena sbozzato e inquietante come un mistero era chiuso e impenetrabile come se in lui avvenisse senza interruzione un lavorio mentale continuo e pericoloso la signorina Surs aveva il presentimento di queste cose e non dormiva più dall'angoscia la salivano spaventevoli terrori incubi tremendi si chiudeva in camera e sbarrava la porta torturata dalla paura ma di che aveva paura? non lo sapeva paura di tutto del buio dei muri delle ombre che la luna proiettava attraverso le tendine bianche delle finestre e soprattutto paura di lui perché? che poteva temere? non lo sapeva ma era sicura che non avrebbe potuto continuare in quel modo era certa ad essere minacciata da una sciagura una sciagura terribile una mattina partì di nascosto per andare in città dalle sue parenti raccontò tutto emozionata le due donne pensarono che stesse per ammattire e cercarono di confortarla diceva se sapeste come mi guarda dalla mattina alla sera non mi toglie mai l'occhio di dosso neppure per un attimo certe volte provo l'impulso di chiedere aiuto di chiamare i vicini dalla paura che ho ma che cosa potrei dire? alla fine non fa che guardarmi le due cugine domandarono è stato cattivo qualche volta vi risponde male le rispose no mai fa tutto quello che voglio lavora bene è ordinato ma io muoio di paura ho in mente qualche cosa ne sono certa certissima non voglio più restare con lui sola in mezzo alla campagna le parenti spaventate cercarono di farle comprendere che la gente si sarebbe stupita non avrebbe capito e la consigliarono di non parlare dei suoi timori e dei suoi progetti ma non la dissuagero dall'idea di un trasferimento in città sperando così di riunire l'asse ereditario al completo le promisero persino di aiutarla a vendere la casa e a trovarne un'altra vicino alla loro la signorina surso e tornò a casa ma aveva la testa sconvolta a tal punto che trassaliva ad ogni piccolo rumore e per una cosa da niente le tremavano le mani tornò altre due volte ad accordarsi con le parenti più che decisa a non rimanere in quella casa isolata trovò infine in quello stesso quartiere un villino che le piacque e lo comprò senza dir niente il contratto venne firmato un martedì mattina la signorina surso trascorse il resto della giornata a preparare il trasloco alle otto di sera riprese la dirigenza che la lasciava a circa un chilometro dalla vecchia casa fece fermare al solito punto dove il conducente era abituato a lasciarla questi le gridò mentre frussava i cavalli arrivederci signorina surso buonanotte lei avvicinando si rispose buonanotte compara joseph il mattino successivo il postino che portava le lettere al paese si accorse che a poca distanza dalla strada maestra c'era una gran macchia di sangue ancora fresco disse tra sé a qualcuno è uscito il sangue dal naso ma dieci passi più avanti vide un fazzoletto pure macchiato di sangue lo raccolse era di tela fine sorpreso il postino si avvicinò al fosso dove gli sembrò d'intravedere un oggetto di forma strana la signorina surs giaceva sull'erba del fondo con la gola squarciata da una coltellata dopo un'ora ai gendarmi il giudice istruttore e varie autorità erano attorno al cadavere e avanzavano con getture i due parenti chiamati a rendere la loro testimonianza raccontarono delle paure della signorina e delle sue ultime intenzioni l'orfano venne arrestato dopo la morte della donna che lo aveva adottato non faceva che piangere dalla mattina alla sera immerso almeno così pareva in un grande dolore dimostrò di avere trascorso la serata fino alle undici dentro un caffè l'avevano veduto dieci persone ed erano rimaste lì finché non era andato via il cocchiere della dirigenza asserì di aver lasciato la vittima sulla strada fra le nove e mezzo e le dieci il delitto era stato commesso nel tratto che va dalla strada maestra alla casa non più tardi dalle dieci il sospetto venne rilasciato un testamento di anni prima depositato presso un notaio di ren lo istituiva erede universale gli abitanti del paese lo tennero come in quarantena per parecchio tempo seguitando ad avere sospetti su di lui la casa dove abitava quella della donna uccisa era considerata maledetta per la strada la gente lo evitava ma lui si dimostrò così gentile cordiale alla mano che a poco a poco venne dimenticato quel dubbio terribile era generoso premuroso chiacchierava con tutti e di tutto anche con le persone più umili il notaio Ramo si ricredette tra i primi sul suo conto convinto dalla sua ilare loquacità una sera nel corso di una cena in casa dell'esattore delle imposte disse un uomo di così facile parlantina e che è sempre di buon umore non può avere sulla coscienza un delitto simile i presenti colpiti da questa argomentazione si misero a riflettere e ricordarono anch'essi le lunghe conversazioni di quell'uomo che li costringeva a fermarsi agli angoli delle strade a entrare in casa sua quando passavano davanti al giardino che aveva il gusto delle battute divertenti ancor più del capo dei gendarmi e un'allegria talmente comunicativa che in sua compagnia non si poteva fare a meno di ridere nonostante la ripugnanza che incuteva davanti a lui allora si aprirono tutte le porte oggi è sindaco del paese il racconto ha un taglio tutto particolare ed evita persino la descrizione del delitto e la spiegazione che esso deve essere avvenuto più tardi col trasporto della vittima sul ciglio della strada né si comprende perché la signorina Surs non abbia cambiato il suo testamento ma l'intuizione del cambiamento di carattere dell'assassino a delitto avvenuto è davvero memorabile di carattere di carattere di carattere di carattere